Che caldo oggi, mamma mia. Non si respira, ho bisogno di qualcosa per rinfrescarmi. Ma che cosa? Ma certo, che idea geniale. Ho avuto un'idea geniale. Aspettate un attimo. Buongiorno, vi siamo a tutti con questo nuovo video in cui vi mostro come fare un qualcosa per combattere questo caldo che ci sta opprimendo. Infatti prima, mentre ero sul balcone con la scena per niente organizzata e scritta, è venuta questa super idea di fare questo gelato al ghiaccio. Che è una vecchia ricetta dei miei bis 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 nipoti. E poi hanno elaborato questo insieme di ingredienti per riuscire a combattere il caldo. I semplici ingredienti sono H2O, quello che noi assumiamo praticamente da tante cose anche in modo indiretto. Quindi, oggi vi spiegherò come combattere il caldo grazie al gelato al ghiaccio. Cominciamo subito per capire che cosa serve. E per ora, nel nostro gelato abbiamo bisogno di una vaschetta per ghiaccio. Dei coni croccanti. Dell'H2O. Anche denominata acqua. Non a fuoco. Quindi, adesso, cosa dobbiamo fare? Prendiamo la nostra vaschetta del ghiaccio, la nostra H2O, e cominciamo a riempire i fori con l'acqua. Potresti avere o quelle di plastica rigida, che se suoni a qualcuno lo ammazzi, oppure potremmo avere quelle di silicone, tutte mollicce, che sono molto meglio di queste perché sono molto più semplici da togliere il ghiaccio, ma chi se ne importa. Quindi, prendiamo questo bellissimo H2O, anche gli articoli se ne sono andati via, e cominciamo a riempire le vaschette qui, le microvaschette nella vaschetta. È tutta una vaschettazione di roba. In modo abbastanza regolare, in modo non eccessivo, ma neanche troppo poco, che se no poi il nostro ghiaccio sarà composto da palline microscopiche. Puoi solo vedere come io abbia fatto in realtà più danni che altro, perché sto riempendo troppo la parte sopra, che invece non dovrebbe esserci tutta quest'acqua, perché se no si congela tutto insieme e non si toglie più niente. È per questo che adesso bisogna cercare con molta attenzione di regolare il livello dell'acqua in tutta la vaschetta, anche se secondo me ce n'è ancora troppa. Nel caso in cui mettiate troppa acqua, si può risolvere in due modi molto semplici. O prendiamo il cucchiaio e svuotiamo cella per cella con questo cucchiaino finché il livello dell'acqua non ci soddisfa, oppure prendiamo tutto quello che abbiamo fatto e lo lanciamo via per ricominciare da capo. Perfetto, ora che è tutto pronto e pieno d'acqua, non ci resta che mettere il tutto in freezer e aspettare che congeli. E mentre aspettiamo salutiamo alcuni di voi che hanno messo like all'ultimo post di Instagram. Salutiamo Lapo Cantoni, Noemi Fredda, Jacopo 17, Camilla Brusa 04 e Nabu 2001. Quindi aspettiamo che il nostro ghiaccio congeli e poi vediamo come andare avanti quella preparazione. Ed eccolo qui, il nostro bellissimo gelato un po' incasinato e con un po' di ghiaccio in più. Ma ora siamo pronti a metterlo in una ciotola e a metterlo sul nostro bellissimo cono per riuscire finalmente a combattere questo odiosissimo caldo di questo orribile mese estivo perché viva il freddo e che schifo il caldo. Prendiamo quindi una ciotola. In questo mobile devo prendere una ciotola, oddio che casino. Quindi questa non è una ciotola, quindi è volato via tutto, buttiamo via anche questo. Questa è una ciotola, questa si rompe quindi non posso lanciarla. Questa mi sa che è troppo piccola. E questa va benissimo. Non è caro di niente. Guardate che figo il coso come l'alikea. Ok. Quindi adesso in qualche modo vorremmo riuscire a prendere questo ghiaccio e a metterlo qui dentro. Ma ce la faremo? Mi sa proprio di no. E' sceso il nostro gelato. Il nostro gelato sta prendendo forma. Eccolo. Perfetto. Oddio, qui ho volato qualcosa. Perfetto. Ed ecco a voi il nostro bellissimo gelato che adesso andremo a mettere sui nostri bellissimi coni. Aspettate che prendo i coni e non è quello che sto organizzando le olimpiadi invernali per il quale stanno scontrando Torino, Cortina e Milano. Fatti i pollicici a caso. Ed ecco qui i nostri bellissimi coni comprati a un euro e qualcosa. Questi coni sono costati quanti di ghiaccioli. Ed ecco li qui, i mustati. Ci serve però un altro attrezzo che è quello lì per prendere questo gelato e metterlo dai coni. Ci serve il tiraparline. Come cavolo si chiama? Come si chiama chiama adesso lo prendiamo. Voi dovete capire che casino c'è in questo cassetto. Io dovrei trovare un oggetto in questo cassetto. Cioè è per caso un pela patate? No, non ci serve un pela patate. Aspettate. No, quello è un tagliaformaggio. Forse è questo. Eccolo il nostro tirapalline che non si chiamerà mai in questo modo però vabbè. Apriamo i nostri bellissimi e stupendissimi coni. Il cavalletto più alto era un option all'oggi. Che caldo con queste luci in faccia. E prendiamo il nostro bellissimo cono. Buono questo cono. Prendiamone uno integro. Il nostro bellissimo cono. E prendiamo il nostro gelato. Devo fargli vedere. E prendiamo il nostro gelato con il fuma palline. Che fuma delle bellissime palline. Prendiamo il nostro cono e mettiamoci il gelato dentro. Ok, prendiamo un altro po'. Ok. 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 E ecco a voi il nostro bellissimo gelato al ghiaccio. Il gelato è perfetto per combattere il caldo, il freddo, l'inverno, l'estate, la primavera. E soprattutto è... Buonissimo! Buonissimo! Consigliato! Consigliatissimo! Fatelo a casa e mandatemi le foto su Instagram taggando chris3d77 underscore yt. E verrete mangiati. Fatemi sapere quindi se volete altri video di questo genere con altre ricette molto intelligenti che potete fare per combattere il caldo, il freddo, la primavera, l'estate, l'autunno, l'inverno, la scuola, Luigi, Francesco e Marco. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Arrivederci!